Ex Voto, cortometraggio del giovane regista di Tortorici Fabrizio Paderniti Martello, ha vinto il premio Chiccarichelmi al miglior cortometraggio in concorso al Torino Film Festival. Il film, si legge nelle motivazioni, racconta la tradizione di un luogo diviso tra sacro e profano e ci restituisce poeticamente l'immagine di un'Italia divisa tra tradizione e modernità. Grazie, insomma sono particolarmente emozionato di essere qua perché è la prima volta che ricevo un premio, sto ancora studiando per la verità tra poco meno di un mese finisco anch'io il centro sperimentale cinematografia e voglio ringraziare le persone che hanno collaborato in particolare Claudia Librizi che è anche qui e Fabrizio Franzini che ha montato il film e Maurizio Romano che si è occupato del suono. Grazie. Al cortometraggio che racconta la devozione per San Sebastiano nel comune di Tortorici hanno inoltre partecipato come aiuto regia Claudia Librizi e dal suono Maurizio Romano entrambi di Capodorlando nonché Fabrizio Franzini per il montaggio.